Ha ironizzato sui sindaci che sono sempre in ritardo all'arrivo in sala di Gianluca Galimberti. Ha scherzato sull'altezza quasi umiliante dell'Eggio, tanto da farsi portare dopo alcuni minuti una pedana. Ha esordito scusandosi per la sua inadeguatezza a parlare di scuola al pubblico in sala adulti, ma soprattutto studenti. Due parole soltanto e Giacomo Poretti ha conquistato gli applausi del pubblico in sala Maffei per l'incontro organizzato da Confartigianato in occasione della consegna delle borse di studio 2017-2018. Allora, comico attore, sceneggiatore, però da tempo impegnato anche nel sociale, qual è il messaggio che porterai oggi ai ragazzi di Cremona? Domanda difficile, porca miseria. Io avevo cercato di dissuadere il presidente a invitarmi, perché io sono il meno adeguato a parlare di scuola, perché praticamente il mio curriculum scolastico fa paura, sembra il curriculum del Crotone, un peggio del Benevento, però in ogni caso sono appassionato ai temi scolastici e poi insomma sono qua per dire che la scuola non è mia, spero che non mi senta il presidente, perché la scuola non è tutto nella vita. La scuola è importante, ma la vita diventa importante, è l'esperienza, e quindi c'è da augurarsi che la scuola formi la persona non solo nell'aspetto nozionistico delle materie, ma che gli insegni a stare al mondo, come dicevano una volta i nostri nonni. Gli studi all'Istituto Professionale per Elettromeccanici, cinque anni in fabbrica come metalmeccanico, il contratto di un anno come ausiliario in ospedale a 750 mila lire al mese per 13 mensilità, sono solo alcune delle infinite slide indoors della vita di Giacomo Poretti, prima che gli si spalancasse la porta a quella vera che ha segnato per lui la svolta. E' difficile dare un consiglio sulle sconfitte, però nel mio intervento c'è un passaggio cruciale, centrale, dove si racconta un fatto realmente accaduto, e cioè che il mio socio Aldo, che quando è uscito dalle scuole medie, una volta, noi siamo quasi sessantenni, una volta si usciva che sul libretto si scrivevano alcune indicazioni, tra cui le attitudini che sarebbero servite per il ragazzo. Alla voce attitudini, due punti, nessuna. Sicuramente sarà stata una sconfitta che avrebbe tramortito chiunque, e quindi questo episodio che è vero ha un messaggio plurimo, perché intanto non è detto che se c'è un insuccesso scolastico ti possa andare male nella vita, infatti Aldo ha promesso che se incontrerà quel preside lì lo tirerà sotto in macchia, ma spero per lui che abbia cambiato sede scolastica. Insomma, al di là dello scherzo, le sconfitte sono inevitabili nella vita, bisogna trovare la forza e la creatività per uscirne, e questo è un augurio.